Ciao, wapine, operaie, come state? Io più o meno bene, perché ho avuto mal di gola, raffreddore, tosse, quindi la tosse mi ha fatto calare la voce, un caos generale, quindi volevo fare questo video da qualche giorno, ma ho detto, ho preferito ritornare in poscescio delle mie facoltà vocali. Allora, finalmente vi parlo di questo libro, che è Punizione Divina, di Paola Chiozza. Se vedete, ho tolto la copertina sopra, perché mi da sempre fastidio quando maneggio i libri, le tolgo sempre, anche se io adoro le copertine rigide, chiariamoci, però ho apprezzato tantissimo il fatto che la foto, e in generale tutto, sia anche qui. Cioè, è una figata allucinante, quindi ringrazio la Salani che mi ha andato questa piccola perla, che ho adorato io questo libro. Se vi ricordate, avevo già parlato di Punizione Divina, tempo fa, quando ero ancora su Wattpad, e quindi diciamo che ho un po' questo sogno in ascesa che è partito da Wattpad ed è arrivato in libreria. Sono davvero contenta per Paola, perché è una carissima ragazza e è una grandissima autrice. Io ho letto già almeno tre sue storie e sono stata super soddisfatta da tutte. È un'autrice davvero sfaccettata, scrive veramente di tutto, quindi vi consiglio davvero di trovare, di leggere questo libro, ma soprattutto anche gli altri suoi romanzi. Allora, vi leggo in breve la trama di Punizione Divina. Giuditta Moretti Fashion victim milanese e brillante studentessa universitaria al settimo cielo. Per concludere il suo percorso di studi manca solo il tiroccino a New York, in una grande banca d'affari. L'attendono un lavoro interessante e la città più bella del mondo. Comprare quello splendido paio di scarpe Jimmy Choo, che la chiamano dalla vetrina, è il degno modo di festeggiare. Ma qualcosa va storto e per un errore di smistamento la sua destinazione non è più Manhattan, ma un inutile ranch sull'orlo del fallimento nel Montana. Cavalli, non lo stilista purtroppo, tori, mucche e puzza di sterco. E Scott Sullivan, figlio del proprietario del ranch. Un arrogante cowboy tutto muscoli e presunzione, che per di più si veste in modo orrendo. Giuditta, seppur disperata, sa che si tratta solo di tenere duro qualche settimana, cercando di migliorare la disastrosa situazione economica del ranch. Poi potrà tornare a Milano, alla sua laurea, ai suoi adorati negozi, alla sua vita di sempre e tutto questo sarà solo un brutto ricordo. Semplice, no? No. Tra figuracce, momenti di disperazione e cortocircuiti ormonali, Giuditta sta per scoprire il vero volto del sacrificio, dello spirito di iniziativa. E forse anche quello dell'amore. Una storia geniale ed esagerata di amore, moda e finanza. Allora, questo è il libro che vi consiglierei di leggere quando siete tristi, quando avete appena finito di leggere roba super mega pesante, tipo Anna Karenina, pesante a livello emotivo, tipo Il Cavaliere d'Inverno, che ci sono rimaste ancora da giorni. È un libro che davvero vi tira su il morale. È una storia d'amore, un ciclite davvero divertente, esilarante. Ma veramente è uno di quei libri che si leggono con le lacrime agli occhi per le risate. Perché ci sono delle battute e io questa me la ricordo, io non mi ricordo niente perché è una memoria che fa schifo, ma io questa cosa ce l'ho qui tipo stampata e non me la dimenticherò mai più. Una delle ennesime figure di cacca che fa Giuditta, perché è un boiler Giuditta, un carro armato pieno di figuracce, pieno di uscite senza senso, che fa sbellicare da ridere. Cioè veramente è lei la punta di diamante del libro, perché senza di lei non farebbe così ridere. Sono proprio le sue figuracce che ci fanno sbellicare. Ed è un momento in cui lei si ritrova a parlare con Scott e a un certo punto tutti aspettano, sembra che stia per dire qualcosa di importantissimo e lei se ne esce con Scott, sbattimi come il telecomando quando stanno finendo le batterie. Ci sono delle battute di questo calibro. Ma allo stesso tempo non è solo da ridere e basta questa storia. È una storia che fa innamorare, perché comunque il personaggio di Giuditta fa ridere, ma il personaggio di Scott ci farà innamorare, perché ok che è il tipico ragazzo un pochino arrogante, ma è anche tanto, un po' presuntuoso, il belloccio sicuro di sé. Però non è esagerato come in altri libri. Qui io mi sono innamorata di Scott, perché è un uomo comunque di ancora un po' di altri tempi. È legato molto alla famiglia, a suo padre, ha sofferto comunque quando era piccolo per vari problemi, però non è un personaggio, come si potrebbe dire, diciamo negativo, come mi vengono in mente esempio Ardyn o Christian Grey. È un personaggio comunque positivo, che proprio mi invoglia a volergli bene, nonostante comunque ogni tanto abbia un po' quelle uscite da sbruffoncello, che però è uno sbruffoncello simpatico. e vi farà innamorare. Vi farà innamorare anche per come viene raccontato il passaggio di Giuditta dal mondo della città, dal mondo milanese, al mondo del ranch, dello sterco di cavallo, della natura. È una cosa bellissima, perché lei riscopre un po' questi valori, che un pochino non aveva dimenticato, non aveva mai conosciuto. E quindi c'è un po' tutto questo in questo libro, quindi davvero io ve lo consiglio di leggere, ve lo mangiate, cioè non guardate lo spessore delle pagine, perché lo divorate davvero. Io ero abituata a vedere la vecchia copertina, che era quella di quando il libro era stato pubblicato in self su Amazon, e quella vecchia copertina mi era piaciuta tanto. Sono onesta, la prima volta che ho visto questa nuova non mi ha fatto impazzire, però ormai ci ho fatto talmente tanto l'occhio, che non ritornerai mai indietro. Cioè, è fantastica, è geniale questa copertina. Mi piace davvero tanto, e ripeto, il fatto che sia qui, sia anche qui, mentre molti libri ce l'hanno solo in questa parte, l'ho trovato davvero una scelta perfetta. Quindi, niente, io non so cos'altro dirmi per farmi comprare questo libro. Io davvero di nuovo ringrazio la casa editrice che me l'ha inviato, e niente, io vi saluto. Fatemi sapere se voi l'avete letto, ne sono sicura che l'avete letto. Lasciatemi un commento, un mi piace al video, e vi saluto. Un bacione. Ciao!